Ciao a tutti e benvenuti su Solo Cose 9 Oggi andiamo a fare una ricetta con uno dei miei ingredienti preferiti cioè il peanut butter, in inglese sarebbe il burro d'arachidi, in italiano crunchy, in questo caso ho preso la versione crunchy, se volete c'è anche la versione smooth questo io l'ho trovato non male, ce ne sono tantissimi in commercio di peanut butter però a supermercato sono quasi tutti dolcificati con zucchero, con altri additivi, oli e robe strane ma a me piace il burro d'arachidi con il 100% di arachidi cioè sono praticamente solo arachidi tritate, sbriciolate e fatte smooth, proprio lisce 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 in questo caso non liscissime, c'è qualche pezzettino dentro che fa crunch ed è la cosa che mi piace di più voglio fare un dolce, ho voglia di dolcetti, non ho in casa la tahin per fare l'alba come abbiamo fatto l'altra volta ho voglia di una roba del genere, quindi andiamo a fare un fudge con il peanut butter in questo caso crunchy, questi prodotti qua io ve li metto tutti qua sotto in descrizione se volete potete trovarli lì, se no comprateli dal vostro negoziante di fiducia se ce li ha questa ricetta è semplicissima, ci vogliono solo 4 ingredienti il primo è lo zucchero, prendiamo 250 g di zucchero 50 ml di latte più è grasso meglio è, c'è qualcuno che in questa ricetta utilizza addirittura la panna se volete utilizzare il latte intero va benissimo io in questo caso utilizzo il parzialmente scremato ma verrà bene lo stesso ho preso 3 cucchiai di burro d'arachidi, belli colmi, sono più o meno 250 g di burro d'arachidi che è all'incirca la stessa misura del nostro zucchero ultima cosa, un po' a piacere, se volete, se vi piace un estratto di vaniglia in questo caso ho un estratto fatto in casa se volete poi vi spiegherò come ho realizzato questo estratto di vaniglia fatto in casa guardate che bel colore che ha non andremo a tuffare all'interno del nostro composto ce ne vorrà almeno un paio di cucchiaini o un cucchiaio poi va un po' a gusti prima di passare ai fornelli e realizzare questa splendida ricetta vi ricordo che se vi sta piacendo questo video potete mettere un like iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere altri contenuti di questo tipo e altre video ricette ma adesso concentriamoci sulla cucina andiamo a scaldare i nostri 50 ml di latte aggiungiamo i nostri 250 grammi di zucchero iniziamo a girare per non fare attaccare lo zucchero e questa sarà la base della nostra caramella quando è tutto completamente sciolto possiamo aggiungere il burro d'arachidi far sciogliere anche questo mentre si scioglie aggiungere il nostro estratto di vaniglia se vedete che monta troppo sollevate il pentolino dal fornello e aspettate che si calmi un attimo prima di rimetterlo a cuocere nel frattempo preparate un contenitore con la carta da forno per andare a posizionare la vostra caramella il vostro fudge di burro d'arachidi vedete che il composto è già diventato più cremoso caramelloso se vogliamo sicuramente un po' più solido rispetto a quanto era soffice all'inizio e direi che è già pronto per essere messo all'interno del contenitore poi raffreddato fate questa operazione quando è tutto molto caldo altrimenti non riuscirete dopo perché quando si raffredda diventa vischiosissimo vedete già dalla padella fa fatica a scendere mettetelo nel vostro contenitore con la carta da forno cercando di dargli una forma quanto più possibile decente quello che rimane nel pentolino è una roba di questo tipo qui perché si sta già raffreddando se siete curiosi e volete assaggiare subito il risultato tenetevi da parte un cucchiaio con l'avanzo di quello che c'era sul pentolino raffredderà più in fretta e sarete in grado di assaggiarlo subito guardate qua quanto è vischioso e caramelloso mettiamo il composto da parte per una notte intera quando sarà freddo possiamo metterlo anche in frigorifero e diventerà spettacolare dopo una notte in frigo questo è come si presenta questo ha più latte, aveva 100 ml di latte questo ne ha solo 50 questo vedete che è molto sticky è ancora un pochino morbido questo è più rigido iniziamo con quel più rigido che sicuramente sarà più facile da tagliare e questo è il risultato è ancora molto molto chewy molto colloso si può quasi prendere al cucchiaio ma andiamo ad assaggiarlo e vediamo com'è un pezzo un po' più piccolo altrimenti poi la glicemia scatta mmm buono un po' colloso ma buono sicuramente quello con 100 ml è ancora troppo morbido ed è diventa un dolce al cucchiaio già questo è ancora morbido ma veramente buono e addictive io adesso me lo mangio ci vediamo domani per un nuovo video ciao ciao